signori buongiorno e benvenuti nell'ultimo video della sesta stagione del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e sì lo so che per quelli che sono arrivati dopo che oramai in realtà sono la stragrande maggioranza di voi il fatto che il primo video della stagione cada apparentemente a metà di un'altra stragione è qualcosa che probabilmente porta a confusione ma il primo video del canale è stato pubblicato il 23 ottobre 2016 quindi tutti video che avete visto finora non erano i primi della settima stagione ma gli ultimi della sesta e questo video è ufficialmente l'ultimo video della sesta stagione del canale del master kai questa è stata una stagione pesantemente dedicata al sandbox ea tutto quello che sono le campagne molto old school basate sull'esplorazione della mappa e sulla generazione di incontri ed eventi casuali e non è ancora finita adesso adesso ci prenderemo un attimo una pausa per qualche mese parleremo di dungeon e mega dungeon che è stata una richiesta che è arrivata direttamente dalla community ma sull'argomento sandbox ci sono ancora un paio di video li vedrete poi nei mesi prossimi come oramai da tradizione però l'ultimo video della stagione lo dedichiamo a fare il punto della situazione vedere qual è lo stato del canale fare un riassunto di quello che è successo nell'ultimo anno quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere la sesta stagione del canale del master kai la sesta stagione per adesso ha il record di essere la stagione che ha avuto più video della storia del canale del master kai perché con la sesta abbiamo introdotto sul canale l'actual play che so che probabilmente non è qualcosa che per molti di voi esattamente nelle loro corde ma vedere gli altri master che masterano fa parte del processo di crescita personale come master quindi magari è qualcosa che può risultare noioso ma se si vuole migliorare è qualcosa e bisogna fare quest'anno a riguardo abbiamo avuto ben due serie questa estate avete potuto vedere la mini serie che ha gestito il master etilico uno dei membri della community del master kai dedicata a microscope che è uno dei primi giochi della new wave giochi forgiti come volete chiamarli ed è anche uno di quelli più caratteristici e ovviamente lo scorso autunno c'è stata la lunga serie di il generatore a fallout story di cui sono molto orgoglioso che è stato un mio personale esperimento per integrare un'unica serie tutto quello che abbiamo visto negli ultimi due o tre anni del canale da come si costruisce una quest come si crea un dungeon come si vanno a modificare le regole tutta la serie è stata un unico dungeon giocato da alcuni membri della community e poi ogni video ha avuto a sua volta un video di analisi in cui venivano spiegate tutte le scelte di mastering fatte a riguardo non voglio dilungarmi qui chi ha visto la serie sa cos'è chi non l'ha ancora vista vi lascio qua in alto la playlist potete andarla a recuperare è un esperimento che non ho mai visto fare precedentemente quindi potrebbe darsi che sono un genio da averla realizzata o più probabilmente sono un cretino comunque rimane il secondo più grande conseguimento del canale per quest'anno dico il il secondo perché quest'anno abbiamo anche raggiunto una pietra miliare per ogni canale di youtube quest'anno abbiamo fatto i mille iscritti se volete c'è anche un video dedicato al festeggiamento dei mille iscritti trovate anche questo linkato qua sopra lo trovate nei commenti non lo troverete però nelle playlist del canale perché il video non l'ho fatto io l'ha fatto susac di una stanza tutta per me sì il video per i mille iscritti del canale del master che è stato pubblicato da un altro canale perché noi siamo gente veramente strana ma non strano ah ah sei strano strano sei strano attualmente comunque gli iscritti sono un 1051 lo dico più che altro per mia futura memoria e sì dato che qualcuno l'ha chiesto no non vedete più le unità nel counter degli iscritti è normale superato il migliaio youtube non visualizza più gli iscritti in tempo reale quindi è normale che li vediate scattare di 10 per volta non chiedetemi perché sia così questo è stato anche un anno all'insegna delle collaborazioni abbiamo avuto il capitano Andre di Blood Manor Games a fare un cameo durante il video di storia sulle West March Manuel di Autarchia JDR con cui abbiamo collaborato con un articolo nelle scorse settimane Pietro il pellegrino tra le storie dell'omonimo blog con cui abbiamo fatto una serie di video soprattutto il dibattito tra preparazione e improvvisazione come master e poi ovviamente sempre per la serie di Fallout la sigla è stata fatta da Dungeons & Drone Max che tra l'altro era il giocatore che interpretava poi il ranger nella serie insieme a Jack Bran che vedrete molto presto di tornare sul canale Don Vecchi e Gianni due storici collaboratori del canale poi Gianni anche l'involontaria mascotte del canale e purtroppo non è morto non è la prima volta che apparivano Don Vecchi ha fatto un cameo nella serie su come scrivere una quest e in realtà Gianni l'avevate già sentito perché nel vecchissimo video sulla sospensione dell'incredulità lo straniero misterioso la voce era la sua questo video segna anche il compleanno della community vera e propria del Master Kai che è stata inaugurata con un server su Discord e un canale di Telegram proprio in occasione del compleanno del canale dell'anno scorso e il video speciale del quinto anno ve le ricordo alla fine di ogni video comunque trovate qua sotto in descrizione i link per partecipare e tra l'altro nonostante sia nata da appena un anno la community ha già sfornato dei piccoli capolavori al di là della serie su Microscope di cui abbiamo già parlato abbiamo avuto anche il video di opinione sui tiri coperti e tiri scoperti e molto presto vedrete qualche altra collaborazione comunque sono molto contento perché si sta rivelando una fucina di Master particolarmente efficienti e tra l'altro in questo momento stiamo anche preparando un progetto che per adesso è segreto se volete saperne di più i link li trovate qua sotto ma voi non siete qui per sentire me che glorifico il mio canale voi siete qui per sentire me che rispondo alle vostre domande quindi non perdiamo altro tempo e passiamo direttamente a quelle e cominciamo con la prima domanda che arriva dal General Mark è stato un collega youtuber che chiede a che età hai iniziato a ruolare? allora non me lo ricordo esattamente però diciamo 13-14 anni era l'estate non mi ricordo se tra la terza media e la prima superiore o tra la prima e la seconda superiore in realtà avevamo io e un paio di miei amichetti avevo già esperienze tangenziali perché il fratello maggiore di un mio amico giocava a quella che all'epoca era Advance D&D con i suoi amici grandi ma niente di serio quello è stato comunque quell'estate abbiamo cominciato a giocare per la prima volta seriamente cioè organizzare un gruppo per quello che possono fare dei ragazzini a Strombringer della Causium che probabilmente ad alcuni di voi farà venire l'effetto nostalgia comunque quella è stata la prima volta che abbiamo cominciato a organizzarci tra di noi e tra l'altro c'era un altro mio amico che faceva il master che poi si è rivelato un master terrificante ed è lì che ho cominciato a masterare e poi diciamo che non ho più smesso e sì a quanto pare il fatto che si inizia a masterare perché il master che si ha fa schifo e si vuole fare in modo di toglierlo a quanto pare è un'esperienza molto comune almeno nella mia generazione comunque io adesso ne ho 38 vado per i 39 quindi sono 24-25 anni di esperienza nel settore ormai sì, sono vecchio va bene, passiamo alla prossima domanda a Franz The Rocker che chiede domanda per il compleanno del canale su che piattaforma canale gestisci il downtown con i tuoi giocatori? ti è mai capitato di far durare il downtown per un lungo periodo nel mondo di gioco ad esempio un anno? allora, vabbè, cominciando alla seconda sì, è capitato, è capitato molte volte di avere salti temporali nella quest in cui fondamentalmente la narrazione di per sé si interrompe ma i giocatori eseguono tiri e fanno cose tra l'altro nell'ultimo paio d'anni sto masterando una campagna di Dark Eresy che è fantascienza oscura ne ho già parlato sul canale ambientato all'interno di Warhammer 40.000 e ci sono lunghi periodi di attesa quando i giocatori si muovono da un pianeta all'altro ed è capitato che avessero anche sei mesi se non di più di tempo in cui semplicemente stavano viaggiando da un pianeta all'altro in cui in realtà nessun evento importante di quest succedeva o meglio nessun evento a cui loro potessero fare qualcosa per evitare succedeva ma hanno impiegato quel tempo per costruire oggetti o eseguire ricerche fare operazioni chirurgiche per impiantarsi pezzi cibernetici quindi sì, non è strano anni fa ho anche giocato una campagna in cui praticamente c'erano dei salti temporali decine di anni tra una sessione e l'altra era una cosa abbastanza singolare di quella campagna che praticamente ripercorreva la storia di un'intera civiltà per quanto riguarda però la piattaforma canale in questo momento io sto giocando su Discord quindi gestiamo tramite Discord ma non ho mai usato un software o un'app apposita per gestire queste cose semplicemente i giocatori eseguono i tiri molto spesso queste cose non vengono fatte neanche in sessione cioè il server di Discord che usiamo è sempre accessibile di conseguenza magari durante la settimana quando si sa che c'è un tempo temporale i giocatori che devono eseguire delle prove le postano direttamente sul server io poi quando c'ho tempo vado a guardare tanto lì dentro c'è il tiradadi quindi non è che possono barare o inventarsi le cose e andiamo avanti con la domanda di Giorgio Gandolfi che l'ha mandata tramite il gruppo di Telegram della Community per quanto riguarda la domanda per il video speciale mi gioco questa nel prossimo futuro oltre ai giochi 2d20 hai intenzione di focalizzarsi su qualche altro sistema? 2d20, d100, pbta? se sì, quale gioco interagisce per il momento di quel sistema? allora, si era discusso con alcuni membri della community per il Friday Night Firefight che è un sistema di 10 ed è quello alla base di Cyberpunk 2020 però c'è da dire che devo riprendere la mano col sistema perché saranno 15 anni se non di più che non ci gioco quindi diciamo che non penso di avere le competenze per trattarlo in una maniera appropriata anni fa ho fatto un sondaggio tra il pubblico per vedere se qualcuno aveva delle proposte ma in realtà poi ha stato scelto di continuare a parlare del D20 ma invece di concentrarsi sulle regole concentrarsi proprio sulle meccaniche di sistema e su cose relative all'ambientazione abbiamo avuto la serie quella su come funziona il Planescape poi l'anno scorso in realtà la serie è andata in pausa e quest'anno la stiamo vedendo orientata all'argomento di quest'anno che sono appunto i giochi sandbox non escludo di fare altro però diciamo che progetti nell'immediato non ce ne sono piuttosto se avete delle proposte particolari scrivete nei commenti qui sotto si può fare tutto io non sono una persona che abbia una reale organizzazione sul canale prossima domanda per Cabren commenta il video sul mostorante poi chiede cosa significa Master Kai? a Luca quest'anno è possibile incontrarti? allora cominciamo no quest'anno non andrò a Luca ancora troppi problemi legati alla pandemia poi in realtà oramai è tardi il tempo che vedete questo video avrei già dovuto essere partito ma forse forse parteciperò a un'altra convention vi avviserò nel caso anche questo è un progetto in sospeso per quanto riguarda invece il nome Master Kai mi è stato appiopato alle medie e dato che io sono una persona scarsamente fantasiosa lì è rimasto la storia che c'è dietro in realtà è che all'epoca giocando a Magic facevo parte della community dei giocatori qua di Ivrea dove abito io usavo un mazzo rosso nero spari muri vabbè intanto riparliamo dell'archeologia delle Magic che veniva chiamato il mazzo di Kervek Kervek è un personaggio all'interno dell'ambientazione del gioco e incidentalmente molte delle carte di quel mazzo avevano dei flower text legati a questo personaggio che poi anni dopo è anche uscito proprio come come mostro giocabile vero e proprio comunque dato che io giocavo il mazzo di Kervek gli altri con cui giocavo avevano cominciato a chiamarmi Kervek da lì Kervek è troppo lungo e ha avuto vari adattamenti Kerk, Karek, cose strane poi si è stabilizzato su Kae e da lì è rimasto perché poi quando sono cresciuto mi serviva un nick per internet e il nick è diventato Kae tanto già un sacco di miei amici mi chiamavano Kae quando ero al liceo il mio gruppo mi chiamava Kae quando poi ho deciso di fare il canale come chiamare il canale? vabbè è il canale del Kae tanto io oramai sono diventato il Kae sembra aver funzionato è facile da ricordare mettiamola così e sì il fatto che io mi porto dietro un nomignolo da 12enne dovrebbe farmi riflettere ma fortunatamente io non sono una persona introspettiva oh e abbiamo il grande ritorno di Mirko Sacchetti che commento per il compleanno che diventerà un sondaggio vorreste che il Master Kae venisse al Wintercon a Reggio a proporre delle one shot? e sì ok sì è una buona idea fare un sondaggio ma forse dovresti farlo con quelli della Wintercon non su quelli del canale non dipende da me se loro mi contatteranno vedrò di andare poi non sono proprio un grande fanatico delle one shot ma in una convention altro non si può fare quindi bisogna adattarsi c'è da dire che non mastero a una convention da e probabilmente sono passate dieci anni quando c'era ancora la vecchia gestione del Torino Comics con io ero in un'associazione locale avevamo tenuto alcuni tavoli era ancora 3.5 non era neanche uscito Pathfinder probabilmente sarò arrugginito e ultima domanda per quest'anno per William Crescenzi ecco la mia domanda esprime il suo odio verso GoLarion ok questa tecnicamente non è una domanda ma non mi voglio far lasciare l'occasione quindi vai con la rent no prima cosa perché so che c'è molta confusione GoLarion non stiamo parlando del sito italiano che raccoglie le regole di Pathfinder 1 quelli sono dei grandi hanno fatto un lavoro enorme e tra l'altro ho utilizzato parte del loro materiale per la serie del D20 quando spiegavo come si costruivano i mostri shout out per loro se non lo conoscete passate raccoglie tutto il materiale di Pathfinder 1 sia quello ufficiale sia molta roba di terze parti ma in questo caso parliamo di GoLarion l'ambientazione base di Pathfinder 1 e anche del 2 ora perché bisogna esprimere odio verso di essa? quell'ambientazione è nata per collegare tra i loro una serie di quest che erano pensate per riassumendo al massimo poi magari ci faremo un video di storia prima o poi una lega di tornei semi indipendenti da quelli che erano ufficialmente wizard all'inizio Pathfinder non era un gioco a sé era un ambiente ristretto all'interno il più grande ambiente della 3.5 c'era una lega di avventurieri c'erano dei tornei e ognuno di questi tornei proponeva un'avventura che si svolgeva in qualche parte di questo generico mondo fantasy quando poi è uscito Pathfinder 1 come gioco tutte quelle mini quest, mini sessioni, mini ambientazione sono state riunite in un'unica macro ambientazione che è appunto quella del GoLarion che di conseguenza è diventata un collage di pezzi che in realtà c'entrano abbastanza poco l'uno con l'altro abbiamo fatto un video a riguardo il kitchen sink lo scarico del lavandino guardate lo lascio qua così non devo rantare in questo momento comunque il GoLarion è diventato un mischione senza senso di pezzi scorporati tra di loro gli antichi egizi, il regno della costante rivoluzione francese la numeria che si rifà ad alcuni aspetti proprio degli inizi di D&D il posto della perpetua ambientazione sembra la mappa di World of Warcraft personalmente lo trovo di un'incoerenza totale ed è un'ambientazione abbastanza superflua ora so che c'è gente che la adora vorrei però sapere quanta di quella gente ha mai seriamente giocato a roba non dico Dark Sun ma anche solo qualcosa come Greyhawk che anche loro hanno la tendenza ad avere dei pezzi scorporati ma magari anche solo per il fatto di esistere da tanti anni alla fine le cose sono state amalgamate tra di loro questo è un processo che per il Golarion non è mai avvenuto magari adesso con la seconda edizione però non l'ho seguita particolarmente ma da quello che ho letto no poi ovviamente probabilmente a quelli che hanno cominciato a giocare con Golarion per motivi d'affezione continueranno a giocare con Golarion per me sono i regni giovani di Elric di Meldimonè che magari sono incoerenti e costruiti a cazzo da una serie di romanzi ma a me piacciono perché mi fanno un effetto nostalgia finiamo qua il rant perché sennò andrò a parlarne per sempre magari poi dedicheremo prima o poi un video di storia proprio all'evoluzione di Pathfinder ma più avanti e questa era anche l'ultima domanda per oggi e per quest'anno abbiamo finito le domande e quindi abbiamo finito anche il video speciale del compleanno mi dispiace per quelli che non sono entrati se hanno fatto le domande dopo ma ovviamente questo video non lo sto girando in tempo reale quindi se qualcuno ha fatto domande nell'ultima settimana non appariranno mi dispiace ragazzi ma il che vada le vedrete nel prossimo speciale diciamo che per questo video quindi è tutto io adesso devo andare a prepararmi per la settimana prossima vedrete qualcosa di ancora mai visto che sarà la prima novità della settima stagione ovviamente non sarà l'unica ma dovrete vedere i video per scoprirli come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è venuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se non ricevete le notifiche io pubblico manualmente i link ai video nella community del Master Kai di cui vi ho parlato prima trovate il link qui sotto per accederci io sono il Master Kai e noi ci vediamo nella prossima stagione ciao 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 ciao